Quali sono i ragazzi che vengono adottati? Ed è un cammino di crescita, quindi un bambino che viene adottato è un bambino che spesso e volentieri ha un passato e un background di sofferenza, di abbandono, di solitudine che va colmato. Che va colmato è la famiglia che accoglie bambini adottati, necessita ovviamente di avere quegli strumenti per poter riuscire anche a gestire i vissuti precedenti, la modalità con la quale un bambino si presenta in questa nuova famiglia. Immaginatevi spesso anche le adozioni internazionali, quindi un bambino che arriva da un altro paese con un'altra lingua, con altri stili di vita, di pensiero che si affacci in un mondo completamente nostro. È quella sensazione di smarrimento che proviamo spesso quando viaggiamo in paesi che sono molto lontani dalla nostra cultura, dove il mondo gira intorno a noi ma noi ci sentiamo un po' spaesati perché tutto si muove ma noi non lo comprendiamo appieno. Un consiglio sicuramente ai genitori è quello di lavorare e attendere, lasciare quei tempi necessari perché un bambino si riesca a integrare non solo nella propria famiglia che l'ha accolto ma soprattutto nel mondo circostante. Quindi immaginatevi la scuola, la famiglia, i compagni, le modalità di gioco. Ci sono tanti aspetti che nei bambini adottati, non solo nel background psicologico ma anche nella situazione ecologica, quindi l'essere accettati dal contesto ovviamente diventa complicato. Immaginiamoci sempre nell'esempio dell'adozione internazionale il fatto che magari il bambino ha persino tratti somatici diversi, o il colore della pelle, gli occhi a mandorla, biondissimo magari, mulatto. E che quindi ovviamente deve avere un rispecchiamento non solo della propria immagine, quindi della loro, della provenienza personale del paese, della nazione da dove viene, ma anche l'essere accolto in un contesto dove anche dal punto di vista fisico siamo diversi. E quindi un'accettazione anche di questo aspetto molto importante. L'accoglienza ovviamente deve essere accettato, quindi insomma è importante la famiglia ma anche quello che sta in, la società, insomma la scuola, tutti quelli che stanno intorno, insomma anche questo. Tutto il contesto, il contesto di accoglienza e del contesto che, e questa è una cosa secondo me molto importante, della differenza come un valore aggiunto e non come una penalizzazione. Si discute tanto sul discorso dell'adozione di bambini ad esempio con la pelle scura, quindi con tratti somatici evidentemente diversi da quelli delle famiglie che adottano. E su questo non è importante, i bambini non riconoscono il fatto che io abbia la pelle chiara e tu la pelle scura, siamo due bambini, questa è una cosa importante. Noi abbiamo degli stereotipi da adulti che inculchiamo all'interno della nostra, della vita quotidiana, ma per i bambini la pelle, il taglio degli occhi, il colore, l'altezza, siamo bambini. Cioè entriamo a far parte della categoria bimbi e non ci sono più questo tipo di differenze, ma le differenze sono le differenze quotidiane dell'avere i capelli di un colore, gli occhi di un altro, la pelle di un colore, o magari il taglio degli occhi diverso rispetto allo. Questo è importante perché spesso e volentieri siamo noi adulti che facciamo delle differenze sostanziali all'interno comunque del contesto. Ci sono coppie che hanno già figli, c'è già la famiglia composta e adottano comunque un bambino, è una bellissima cosa voglio dire, però in queste situazioni il bambino si sente magari il secondo, quello magari, anche qui è una situazione molto delicata, no? Entri in una famiglia dove dici loro sono figli veri e io sono stato adottato, scelto dopo. E questo è quello che è il valore, cioè immaginati, ai bimbi si fa questa cosa, cioè si racconta la storia, quindi immaginati che questa famiglia, nonostante anzi un valore aggiunto, abbia già dei figli. Quindi paradossalmente diciamo che era completa sotto questo punto di vista, invece ha scelto proprio te. Ha scelto proprio te perché ti desiderava tantissimo. Aveva il desiderio che si sentiva incompleta e aveva bisogno proprio quel pezzettino per completare e per sentirsi realizzata dal punto di vista dell'idea della famiglia. Ecco, se a un bambino fai passare il fatto di essere stato scelto, cioè quindi che ci sia assolutamente un profondo amore nella scelta, che non sia stato qualche cosa di la seconda scelta, l'ultimo arrivato, questo fa sì che il bambino... Una cosa voluta veramente, quindi qui la lettura dell'autostima che cresce... Voluta, con un percorso lungo, quindi abbiamo fatto fatica nell'averti perché abbiamo combattuto, perché siamo andati a fare i colloqui con gli assistenti sociali, perché abbiamo fatto un percorso di un certo tipo, perché noi volevamo proprio te. Questo per un bambino è il non plus ultra, non ha importanza se sono stato adottato o non adottato, il primo, il secondo e il terzo, ma è il discorso del sentirsi assolutamente parte integrante della famiglia.